Per quanto riguarda i migranti ho sempre manifestato le mie perplessità su alcuni centri che sono stati destinati a questo tipo di business. Io come sindaco verificherò la puntualità e soprattutto l'agibilità di questi locali e mi auguro, e questo è l'appello che lancio ovviamente a tutta la città, che non si verifichi quello che già abbiamo dovuto riscontrare con il Liberty, uno dei nostri gioielli per quanto riguarda le strutture alberghiere della città di Messina, che ora è destinato all'accoglienza dei migranti dal business che ha riguardato e che riguarda attualmente sia il sistema cooperativistico che gestisce questi servizi e probabilmente anche i proprietari degli immobili.